Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna che va in scena da un contesto speciale, il ghiacciaio Presena, dove si è appena conclusa la seconda tappa di ISMF, Ski Montanieri in World Cup. Partiamo da gara sprint, dove vince Svizzera e Francia, ma poteva essere una grande, grandissima Italia, perché nella finale femminile Giulia Murada ha dominato la gara ma è caduta all'ultima curva, per lei un questo posto finale. È stata una serata un po' buia, perché fino all'ultimo ci ho creduto, forse ho dimenticato di ragionare un po' di più e ho cominciato a crederci troppo, l'ultima curva è stata fatale, purtroppo una brutta caduta, che non ha lasciato troppi danni, quindi per quello meglio così, però mi ha portato via la prima vittoria in Coppa, spero che ci sarà occasione di rifarsi e vabbè, si pensa alle prossime. Al maschile terzo gradino del podio per uno stratosferico Nicolò Canclini. Sono molto felice di questa posizione guadagnata, potevo forse fare qualcosa meglio, ma in cima ho sbagliato, poi in realtà hanno sbagliato anche gli altri, per cui diciamo che siamo andati un po' pari, è stata una bella battaglia, divertente fino alla fine. Sì, andiamo alle feste con già un po' di un Coppa del Mondo, che è una bella posizione, poi la sprint si sa che adesso è un po' la disciplina olimpica, per cui ci sono belle aspettative per quello, poi da qua quattro anni di tempo ne passerà un bel po', per cui chissà cosa capita, ma sono veramente felice della serata. La due giorni di Ponte di Legno Tonale si è conclusa con la individual race, vinta da un grandioso Remy Bonnet sul secondo gradino del podio Davide Magnini. Sono felicissimo di questo secondo posto, è stata una gara molto nervosa, vincente, molto tirata, ci ho creduto per tutta la gara, perché abbiamo battagliato in modo molto serrato, io e Remy. Per più parti sono stato in testa e ci credevo, il tifo degli amici, dei conoscenti e dei miei familiari sul percorso mi ha dato una grande motivazione, mi ha spinto a crederci fino alla fine, poi oggi con le temperature così fredde è stato abbastanza dura per le pelli. Ho sbagliato gli ultimi due cambi, Remy è partito prima e ne aveva un po' di più sull'ultima salitella, quindi complimenti a lui, ma sono soddisfatto delle mie sensazioni. Al femminile tutte dietro ad Axel Mollare, secondo posto assoluto per Giulia Murada che si rifà della caduta di venerdì e chiude alla grande questo fine settimana. Sono davvero soddisfatta di questa individuale, la prima di stagione, di aver chiuso il secondo posto, poi ovviamente con Axel si è lotta per il secondo posto, quindi è quasi una vittoria. La gran Tavene mi piaceva il percorso, bello tecnico, nervoso, salite corte, tanti cambi come piacciono a me. È una giornata perfetta che fa un po' dimenticare quella della gara prima. Qui sulle nevi del Tonale abbiamo intervistato per voi i tecnici italiani della Nazionale Cinese. Proprio così la Nazionale Cinese starà di casa qui a Passo del Tonale per allenarsi. Obiettivo Olimpiadi 2026. Il progetto con la Federazione Cinese di Scialpinismo è partito in estate. Quando mi è arrivata una mail nella quale mi chiedevano la disponibilità ho valutato tutte le varie sfaccettature e alla fine ho accettato questo progetto che è più un'avventura che parte da un livello un po' più basso rispetto magari a quello che è l'Europa. Però è interessante questa grande sfida perché poi al di là della parte sportiva ci sono anche dei risvolti sociali con ragazzi che vengono da tutta la Cina, dal Tibet, dall'Oxinjiang, che hanno delle storie veramente interessanti e sarà un lavoro molto lungo e molto duro. Un'altra motivazione grande è stata che la Federazione Cinese ha questo grande obiettivo che è Milano Cortina 2026 dove ci presenteremo non da spettatori ma da protagonisti in questa magnifica Olimpiade che sarà a casa nostra. La scelta di questa località, il Passo del Tonale, in quanto è innanzitutto un luogo molto adatto allo scialpinismo, presenta pendii con caratteristiche diverse tra loro ma idonee ai vari formi di gara per i quali dobbiamo competere. Anche per questa settimana è davvero tutto, visto che è arrivato l'inverno cambia anche il nostro claim e quindi al termine dell'ultima salita veloce i cambi e giù a bomba in discesa.